Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Firenze Imprunita e il vivio per la variante di Valico, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla A15 per lavori, rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili per un veicolo in avaria, code tra Scandicci e Lastra Assigna in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori, chiusa via Cosimo il Vecchio da Viale Pieraccini all'ingresso del parcheggio di Villa delle Rose. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!